Eccolo qui Raffaele Puccino, difensore, intanto laterale di fascia, destra o sinistra non fa differenza per te? Non fa differenza, nel momento del bisogno, l'ho detto prima, bisogna adattarsi a tutte le situazioni. Dovunque giocherò, a destra, a sinistra, a centrale, quello che posso garantire è il massimo impegno. Poi certe situazioni possono riuscire meglio, altre meno, però l'impegno non deve mai mancare. Senti, eufemisticamente non è andata benissimo la stagione che hai vissuto lo scorso l'anno Sassuolo in Serie A, credo tre presenze, però in precedenza avevi collezionato più di 60 presenze in due stagioni nel Varese. Questa è l'occasione giusta per riscattarti un po' quello che si chiede anche alla piazza di Pescara, che la piazza chiede a questa squadra. Certo, l'ho detto prima, sia io che il Pescara non veniamo da una stagione brillantissima e credo che quest'anno sia l'occasione per entrambi di rilanciarci insieme. L'anno scorso non ho vissuto una stagione bellissima per vari motivi, però credo che tutto fa esperienza, anche perché fortunatamente ho un'età che mi permette di rimettermi in gioco e magari di un domani di conquistarla e di rimanerci per più tempo. Comunque, insomma, nella triangolare di domenica scorsa ti sei presentato con un bel inserimento su una punizione calibrata di Politano. Insomma, mi pare che tu abbia nel DNA anche qualche gol, no? Ma sì, a Varese in due anni ho fatto tre gol, anche tutti e tre belli, diciamo che per un difensore segnare è sempre un qualcosa in più che a fine stagione può comunque riempirti di orgoglio perché il primo compito è quello di difendere, però fare qualche gol all'anno può aiutare sia per un curriculum personale ma anche alla squadra perché può portare punti importanti. Ecco, il primo compito, lo dici bene tu, di un difensore è quello di evitare i gol e quindi di evitare i passivi pesanti. Il Pescara, lo saprai, viene da tre stagioni sotto questo profilo davvero disastrose. 193 gol al passivo, vi preoccupa? Ma preoccupa no, perché io non posso parlare dell'anno scorso, degli anni precedenti perché non conosco come lavorano gli allenatori. Io so come lavora il mister, pretende molto dalla fase difensiva, soprattutto dal reparto difensivo dei quattro. Stiamo lavorando molto in questi giorni proprio per evitare che si possa passare una stagione prendendo ancora tante reti. Che gruppo sta nascendo, Raffaele? Un gruppo, l'ho detto prima, fatta di tanta brava gente, bravi ragazzi, che ha voglia di lavorare e sono convinto che chi arriverà, se arriverà qualcuno, il gruppo lo accoglierà a braccia aperte, non avrà nessun problema a livello di ambientazione o di ambientazione, si può dire? Sì, ambientazione, ambientamento. Ambientamento e lo metteremo subito nelle condizioni di poter lavorare al meglio. Senti, comunque insomma, siccome dovrebbe arrivare, in teoria, anzi arriverà un terzino sinistro, magari se non arriva per fare meglio? Ma no, se arriva è perché ce n'è bisogno e per darci una mano. Quindi la porta è aperta, soprattutto a gente che ha voglia di mettersi in mostra, di rilanciarsi, caso mai, dopo un'annata positiva ma anche negativa. Ecco, l'ultima sulla piazza, la conosci? Più che altro, insomma, per le notizie che hai acquisito, devi ancora conoscerla a fondo, immaginiamo. Ma sì, però ho parlato con qualcuno, con i miei ex compagni di squadra, a parte che l'ho affrontata tre anni fa con il Pescara di Zeman, basta vedere il pubblico, la gente che voglia di seguire il Pescara per capire che piazza è. È una piazza esigente, dove ti senti giocatore al 100%, perché ci sono pressioni, c'è un grande stadio, una bella tifoseria. E ovviamente dobbiamo essere bravi noi a portarci dalla nostra parte. Tu vieni dal sud, quindi per te è qualcosa di... Ah sì, anche se ho sempre giocato, ho fatto sei anni di professionismo, sempre al nord, quindi non sono... Quindi ti mancava, ti mancava. Sì, sì, sicuramente. Grazie in bocca a lui. Crepi.